Benvenuti ragazzi sono Rinoplaze e oggi siamo su Slenderman Già le otto pagine di Slenderman, oggi ci metteremo alla ricerca di queste fantomatiche pagine Senza baccare lo Slenderman E con questa musica meravigliosa nelle mie orecchie direi di cominciare il gioco Con un tizio che sta appestendo all'arba, dalla cacca Oh! Quindi col testo testo accende e spengono la luce Con un guasto di rimuovo E basta così. Bene! Noi siamo uno stronzo perché uno che vada solo in un bosco con una dolce è uno stronzo E niente ci mettiamo alla ricerca di queste pagine E per ora non c'è nessun rumore se non i miei passi Ehm... Non c'erano le opzioni dell'audio ragazzi quindi Se c'è il rumore che sovrasta la mia voce non posso farci niente Ehm... Io sto vagabondando a caso E vediamo Che si può fa' Che cazzo è Oh! Una pagina Come... ok prese Una di otto ragazzi ce l'abbiamo Ah! Io poi vi ho il contagio Dove mi sparate in faccia con la luce Infatti voi non mi vedreste Eh... non vedo già un cazzo di mio Gh hoverboya E non lo c'è spada negli occhi Oh! 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 heavens ho qua qua al vicino Oh ल indemno a caso che cazzo è successo ma via stronzo vai via caputana spavento non ho visto male stronzo di merda oh pagina 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 ragazzi voi non prendete esempio da me non giocate a ste merda e se c'è un maniaco mostro assassino che vi vuole uccidere non andate cioè non so effettivamente quanto come andare i luoghi chiusi c'è sicuramente il miglior luogo chiuso che c'è il bosco di notte però guardate su quattro stanze l'unica che non hanno controllato è proprio quella vaffanculo oh eccola non puoi correre no io invece spero che te la metti al culo è qua oh camio altra pagina si yes 4 su 8 oh ma ce l'ho sempre dietro su stronzo oh che cazzo vai via vai via io non capisco il cazzo vai via ma cazzo vai via porca puttana così oh 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 ecco la eccola eccola mi si trovo domani 5 su 8 ragazzi 5 su 8 sono tornato al camion da dietro stavolta quindi sto sbagliando tutto cosa sai? Quale struttura mitologica sai? compagni chimici, container, 194 non mi interessa che cazzo è? affanqui siamo assati ma come mi ha preso da dove? da dove? porca puttana da dove? riproviamoci subito ragazzi 6 su 8 la prima volta che gioco in questo gioco 6 su 8 si può fare si può fare adesso devo ricordarmi i posti dove ho preso le pagine e sopravvivere e trovare le altre due quindi ci vediamo dopo ecco dai cominciamo dai bagni dai cessi forse la zona più pericolosa è chiusa in assoluto del gioco la spostano la spostano ogni volta in una delle quattro stanze che palle eh? non c'è eh? eh cominciamo malissimo se non c'è qua dentro cazzo le spostano ogni volta cazzo le spostano ogni volta cazzo le spostano ogni volta aaaah e una a cielo e mo su quale contene? cazzo le spostano cazzo le spostano via dalle palle via dalle palle di corsa ok ho capito che è disposto non sono mai nello stesso luogo quindi via dalle palle via dalle palle di corsa ovviamente è una pagina non sarà mai qui nell'arba e nei boschi perchè sarebbe troppo complicato da da trovare quindi ci servono i punti di interesse che sono le zone diverse dalla boschia normale i punti edifici le strutture strane ecco il calma è fuori dall'ordinario tutto in boschia d'arba è un cambio allora qui ci sarà una pagina eccola bastava chiedere segui il cazzo ti seguo vaffa culo corro corro batman baaah per difendere la libertà la criminalità la criminalità anche a me sarà da e sono d'accordo anch'io non sono un criminale ma inizia il x 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 sotto un coglione ahahah questo è per questo che mi abbassa se lui non lo guarda io non lo guardo che diciamo possiamo entrare da favore quante pancini ho 3 risulta me ne mancano 5 e io già mi so che prendo in mare non so che cazzo fare ottimo no no non morire ci becchia e peggio quindi ah puttana ladra e sop, vaffanculo va e mi abbasso sempre tutte le volte senza il senso della vita mi abbasso e basso senza motivi ok ti vuoi bagni è un muro che cazzo che significa hanno cominciato a costruire una cosa poi si sono rotto il cazzo e hanno detto no ahhh ma le vado da parte non vedo un cazzo eh sto morendo ok me ne vado la pagina sarà qui ma tu non vuoi che entri in casa tu qua anche se a metà anche se a metà e me sta bene così e me sta bene così eeeh e me sta bene così ahhh c'è rotto il cazzo hai rotto il cazzo perchè non ci posso venire cazzo ma io vagabondo a casa non capisco dove andare da andare è una pagina a casissimo mia 4 di 8 eh eccessivamente stai vivendo per riprendi fiato ma se spunta lui siamo morti eh cazzo è buono il fiato te lo fai venire a caso perchè scherzo non ci piace batman ci piace come cazzo proprio non capisco non capisco non ho capito ma a batteria ahhh che cazzo è vaffanculo mi è morta la batteria la torcia non vedo un cazzo mi si è buggato pronto io non vedo già un cazzo di mio ho gli occhiali per quello raga che cazzo dove fai mi si è rotta la torcia e le vorrei cominciare dal cavo vediamo già vabbè ragazzi io direi che per questo episodio è tutto il primo tentativo di trovare l'otto pagine è andata piuttosto bene sei su otto il primo è quattro su otto con una torcia rotta quindi va più che bene direi che possiamo aiutare in quell'episodio io rifarò Slendermi per trovare un altro episodio perchè ci tengo a prendere tutte e otto e andrò avanti fino a quando non riuscirò a prendere tutte e otto quindi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere attraverso il mi piace eeeh la pagina di facebook e twitter è in descrizione condividete il video se potete perchè mi aiutate a frattisciare il canale se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao